Cristo è nato, e tu ha nato, per salvar la gente che era perduta ed è scaduta nel primer parente. Nato è Cristo per fare acquisto di noi peccatori, che erano partiti e dispartiti dai Suoi servitori. Perché fallenti e non serventi, ma dei servitori erano fatti, da cui Lui tratti che tutt'or fallente. Cristo è nato, e tu ha nato, per salvar la gente che era perduta ed è scaduta nel primer parente. Invelemnatel Signor Beato, ne virgine pura, annunziato, prefigurato, o dalla scrittura. Mediatore e redentore, dritto e verace, re di gran pace, a ciascun piace, a ciascun piace, chi ha veramente. Cristo è nato, e tu ha nato, per salvar la gente che era perduta ed è scaduta nel primer parente. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.